preziosissima anche la lancia d'oro la grande gara che la casa automobilistica torinese ha indetto al golf club le betulle a biella per dilettanti e professionisti del golf partono con potenza e precisione le salve di questa artiglieria dello sport si tratta di centrare un obiettivo non molto più grande di una moneta da 500 lire ma il bersaglio può valere assai di più la prima buca in uno era infatti premiata con una fiammante lancia pulvia 2c peccato che a volte la pallina voglia proprio prendere in giro la buca è il campione per i migliori copperi lucenti la lancia d'oro è toccata al milanese casera la signora a fiammetta rivetti ha poi premiato i migliori della gara pro amateur antonini vaselli e tofano stavolta al golf si è giocato oltre che con la mazza anche con la lancia